Eccoci bentornati su GoGames, siamo su Starfield e in questo video andremo a vedere un'altra arma da acquistare praticamente subito nel gioco. Dopo aver visto l'arma Boom Boom, che è questa qui, qualora ancora non l'abbiate presa mi raccomando recuperate il video perché ne vale assolutissimamente la pena, è fighissima, fortissima, non costa neanche tantissimo per cui ci vuole veramente poco per ottenerla. Fatelo giovani, mi raccomando fatelo. Detto questo, dopo aver visto come ottenere questa arma, vi faccio vedere come ottenere un'altra arma altrettanto figa. A sto giro ci troviamo qui su Alpha Centauri, vi faccio vedere la mappa, siamo sempre qui, ci spostiamo qui su Gemison. Questa zona dovreste conoscerla tutti perfettamente ormai, è praticamente la seconda zona dove finiamo nel gioco e da dove praticamente parte tutto e si ramifica tutta la storia di Starfield. E ci spostiamo nel quartiere commerciale, atterriamo qui e dal punto in cui siamo atterrati vi faccio vedere dove dobbiamo andare per acquistare quest'arma perché anche questa l'acquisteremo. Se avete problemi di credito, di crediti, di credito, vabbè, se avete problemi di crediti sul canale trovate il video che vi mostra come fare subito 30.000 crediti. Anche a inizio gioco ci mettete veramente un secondo. Signorina salve, entriamo in questo negozio, Luci, parliamo con la signorina dal nome impronunciabile e vediamo che cosa è in vendita. Armi e ci andiamo ad acquistare quest'arma qui. Il Rapid Shot fucile a canna liscia è una bomba, è assurdo questo fucile. Quindi ce lo andiamo ad acquistare e ovviamente prima di uscire acquistate anche le munizioni di quest'arma. Sono queste qui. Proiettile per fucile a canna liscia SB 15x25. Eccola qui, ce la andiamo ad equipaggiare, ce la mettiamo magari di qua e ovviamente la andiamo a provare subito. Eccoci qui pronti a fare dello sfacielo. Guardate che danni che fa. Quella la 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 la. Fate i facci, ti è? Due colpi, buttate giù tutti. Ovviamente se tenete premuto, vabbè, gli headshot sono praticamente one shot. Se tenete premuto il tasto sarà automatico, quindi sparerà di fila, magari per chi non è esperto. Così. Eh, abbia pazienza. Giovani, direi che abbiamo finito di fare dei macelli e degli sfacieli. Adesso ricarico la partita onde evitare tutto questo casino, ma comunque direi che per questo video è tutto. Come al solito, grazie mille e alla prossima. Giovani, cogliamo l'occasione per ringraziare tutti gli abbonati al canale. Grazie veramente di cuore per il supporto. Vi ricordiamo che se volete abbonarvi al canale sotto al video trovate il tasto. Ci sono tre tier e ognuno di essi vi darà vantaggi diversi. Qualora vogliate sostenere il nostro canale attraverso i vostri acquisti, potete utilizzare anche il link di Amazon. Lo trovate in descrizione e nel primo commento pinnato. Se volete, in descrizione trovate anche il nostro gruppo Telegram e il nostro canale Discord. Grazie ancora per tutto il supporto che ci date. Ora usiamo.